Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro di Cultura Ebraica in collaborazione con la storia ebraica Kriatsefer con Shalom e con la Bompiani per la presentazione del libro di Gaia Servadio, Giudei, edito da Bompiani. È un avvincente romanzo che racconta la storia di due famiglie, i Levi e i Foa, e l'intrecciarsi delle loro storie nell'Italia del Novecento, tre generazioni familiari in cui si rispecchia la storia di un paese. Una saga familiare che parte nel 1903 attraversa le due guerre, passando per le leggi razziali e per le persecuzioni nazifasciste, fino ad arrivare alla ricostruzione e alla rinascita nel dopoguerra. Oggi a parlare di questo appassionante romanzo abbiamo degli ospiti d'eccezione, ospiti che ci presenterà Enrico Franceschini, moderatore di questo incontro. Io inizierei però dando la parola a Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, per un saluto. Prego Ruth. Buonasera a tutti, buonasera Gaia Servadio per questa occasione che ringrazio veramente di cuore e grazie a tutti quanti gli autorevoli ospiti che interverranno per presentare questo interessante libro, che come dicevo ha occupato una mia lettura di Shabbat per ripercorrere attraverso appunto le vicende di queste due famiglie, la famiglia Levi e la famiglia Foa, una storia italiana troppo spesso considerata vuota, inutile o quantomeno da molti addirittura non la nostra storia. Invece è proprio la storia di questa Italia che si ripercorre nelle vicende di uomini e di donne che hanno vissuto sentimenti, passioni, il proprio ebreismo, la propria identità, la persecuzione e la resistenza, perché anche di questo si parla, in un percorso temporale. Un percorso temporale che si dipana appunto in quasi un secolo e che li vede contrastare, combattere, riaffermare costantemente la propria identità, non tanto nelle formule del come o del quando essere ebrei, ma nella unione che l'essere ebrei, o anche per chi gli è stato vicino non da ebreo, ma nella condivisione dei valori, ha determinato il loro percorso e il loro generario. È una storia di sofferenze, ma anche una storia di grandi valori familiari, come dicevo, e anche di grande unione. È una storia che mette a confronto con il presente, per certi tratti, il passato e lo rende umano. Ecco, il grande valore che me la rende ancora più interesse è la grande umanità della narrazione. Questa donna, queste donne, questi uomini, con i loro sentimenti, con le loro debolezze, con le loro caratteristiche, prevalgono sul senso della storia, che li voleva chiaramente annientare completamente. Per quanto posso aggiungere, per parte mia, probabilmente una storia ebraica non molto vicina alla storia della comunità ebraica di Roma, ma perché ogni identità, ogni famiglia, ogni territorio ha le sue peculiarità, ma che ci permette però di ragionare anche sulle vicende romane, di ragionare comunque su quello che è stato un percorso comune a tutti gli ebrei italiani. Il fatto di non poter essere più cittadini, nonostante i meritevoli di dignità e di diritti, nonostante quest'Italia l'avessero costruita, ben testimoniato e ben raccontato, per quest'Italia avessero combattuto, per quest'Italia avessero prodotto e dato il loro contributo, sia in termini umani che in termini professionali. È qualcosa che emerge con chiarezza e che si rivendica anche con la determinazione e che diventa uno strumento anche di divulgazione e di diffusione per le future generazioni. Ecco, personificare il racconto, riportare alla dimensione umana, uscire un po' dai libri di storia e da quello che ormai è diventata una nicchia culturale di pochi, fatemi dire, per entrare invece nella dimensione umana, tangibile, in una eredità, ma ecco, è il grande valore aggiunto che testimonia. E di questo ringrazio veramente Gaia Servadio, ringrazio veramente tutti quanti voi, gli editori, gli storici, i giornalisti, Cecilia che me l'ha fatta conoscere e che me l'ha fatta apprezzare. Un grazie particolare al Centro di Cultura, ai nostri dipartimenti, di Shalom e la Librevia Kiria Zefer, sono sempre attenti e disponibili, sperando di poter continuare a discutere di questi argomenti e di questi temi con questo proficuo, costruttivo approccio in una dimensione futura di condivisione e di coesione e nella diversità veda una grande ricchezza, come l'hanno vista anche i suoi avi. Grazie. Grazie Ruth, grazie mille. Passerei adesso la parola a Enrico Franceschini. Enrico Franceschini è giornalista, è stato corrispondente dall'estero per La Repubblica, per il quale ha ricoperto molte sedi, quella di New York, di Washington, Mosca, Gerusalemme e Londra. E oggi è il moderatore dell'incontro. Prego Franceschini. Enrico. Allora, grazie, grazie Miriam di questa presentazione. Io sono qui, credo, per due ragioni come moderatore, perché ho passato sei anni in Israele come corrispondente di Repubblica, qualcosa di ebraismo ho imparato, e perché conosco Gaia e la conosceremo anche noi attraverso questo incontro. Due parole per presentarla, se qualcuno per caso non la conoscesse. Giornalista, scrittrice, viaggiatrice instancabile, animatrice di uno dei salotti intellettuali più vivaci di Londra. Insomma, ci vorrebbe un libro per raccontare Gaia. E lei lo ha scritto, questo libro, la sua meravigliosa autobiografia Raccogliamo le vele, qualcuno anima, poi le vele non le ha raccolte, ha continuato a scrivere. Da allora ha pubblicato almeno un'altra mezza dozzina di libri. Insomma, Gaia è un personaggio larger than life, dico solo che quando abbiamo parlato due minuti al telefono per presentare questo incontro, in due minuti è venuto fuori e abbiamo parlato di Graham Green, che lei ha conosciuto, intervistato, gli ha procurato dei documenti speciali, ed è il famoso incontro fra Primo Levi e Philip Roth che lei ha fatto incontrare. Ecco, questo solo per dire in due parole con chi abbiamo a che fare. Ma ora la parola ai primi ospiti che diranno qualcosa di lei, che sono l'elenco di narrativa e di saggistica, alla Bonpiani, prima e precedenza alla Mondadori, lui stesso scrittore e ho scoperto traduttore di un libro di Raymond Chandler, autore che io adoro, come tutti peraltro. Umberto Gentiloni, storico, accademico, editorialista, lui stesso autore di tanti saggi importanti e la nostra amica Cecilia Valmaran, produttrice cinematografica, direttrice di Rai Movie e vogliamo dire anche, diciamolo, nipote di Gaia e quindi diciamo anche questo particolare. Comincerei con Antonio Franchini, poi passeremo agli altri, poi a Gaia e poi alle domande. Antonio, ci sei? Scusatemi che avevo disattivato l'audio venendo incontro alle esigenze della regia. Mi sembra che Enrico Franchesini abbia usato un'espressione perfetta per questo romanzo, Larger Than Life. È veramente questa la definizione. Si può dire appunto romanzo di due famiglie, storia di due famiglie, ma in realtà quello che racconta Giudei è una storia ovviamente molto raccontata, ma, come dire, è una di quelle storie che non deve assolutamente cessare di essere raccontata, perché ognuno che la racconta vi aggiunge un pezzo, vi aggiunge una pietra, vi aggiunge una prospettiva. E io mi sono interrogato su quale fosse la prospettiva, la novità che ha ispirato, che ha teso la corda di questo romanzo. E mi sembra di averla trovata in un'osservazione che sta più o meno a metà dell'opera, quando Gaia Servadio scrive, così lo ricordo, perché è vero che i miti sono confusionari, e cos'è la storia di una famiglia se non mito? Ecco, questo secondo me è il cuore pulsante della storia. Cioè, noi qui assistiamo a due narrazioni, ovviamente, come si dice in questi casi, la grande storia del mondo e la storia privata, e la storia, la storia dei personaggi, le storie private dei personaggi si increcciano con la storia del mondo come buona tradizione di tutti i grandi romanzi. Però, se noi ci facciamo caso, tutte le storie, le piccole storie, e le storie delle famiglie, le storie che si raccontano e che si tramandano, hanno questo alone di mito. Le storie di famiglia sono tutte quante mitizzate, ovviamente ad uso dei componenti della famiglia. Però, quando uno riesce a raccontarle, e riesce a raccontarle così come le ha raccontate Gaia Servadio, queste mitologie familiari diventano mitologie di tutti. E la cosa importante qui è che la grande storia è talmente estrema, è talmente eccessiva, è talmente drammatica, che dovrebbe schiacciare tutto il resto, e invece non lo fa. E quindi, quello che viene fuori alla fine, nonostante tutta la disumanità, tutto l'orrore, tutta la mostruosità di una storia che per avere qualche precedente probabilmente bisognerebbe rimontare a massacri di epoca biblica, bisognerebbe andare veramente indietro di secoli e di millenni per recuperare un tale tasso di ferocia. eppure la nota che alla fine vince e vince su tutto è vero, è l'umanità. E la forza dell'umanità è la forza di valori che non possono essere schiacciati. Questo è il senso, secondo me, più profondo di un libro che in realtà ha tante tonalità, ha tante voci e ha anche degli aspetti più leggeri, per esempio ha un incipit straordinario, cioè l'incipit dell'incidente a Puccini scoperto in una strada di campagna sotto le ruote dell'Isotta Fraschini con la sua giovane amante che è terrorizzato dall'essere stato scoperto. È una delle note più leggiadre, più divertenti ed è molto bello che un romanzo così segnato dalla ferocia della storia si apra in una maniera così aerea, così simpatica, così divertente, un'ironia che tutto sommato lo attraversa e non lo abbandona mai. Quindi lo dico da editore, lo dico da lettore, una magnifica lettura, una lettura per crescere, ma anche una lettura in qualche maniera per entrare nello spirito di tutte le famiglie e non solo di quelle segnate così duramente, così pesantemente dalla storia. Grazie Antonio, che ci ha fatto Antonio Franchini questa analisi letteraria molto bella. Gaia ama l'opera e in certo senso ha il passo di un'opera lirica questo libro e quindi si apre con Allegro e poi dopo andiamo a finire da un'altra parte. Adesso sentiamo invece forse un'analisi più storica di che cosa significa il libro dallo storico Umberto Gentiloni. Grazie. Grazie dell'invito e della possibilità di discutere questo bel libro. Io non credo che farò un'analisi storica perché appunto i libri sono belli per quello che sono e qui c'è un percorso di due famiglie che attraversano come è stato detto il Novecento e a me pare che la cifra più riuscita, più interessante del lavoro di Gaia serva Dio sia proprio nella capacità di costruire un rapporto originale tra le storie delle persone che vivono nelle famiglie di riferimento e la grande storia che si muove sullo sfondo. È stato già detto questo tutti i romanzi hanno questa tutti i romanzi di sfondo storico giocano diciamo su questo canone diverso tra le persone e ciò che accade. In questo caso io credo che ci siano due almeno io li ho percepiti in questo modo due elementi particolarmente riusciti che fanno del libro un bel libro. Il primo è che l'umanità delle persone è nettamente più forte è nettamente più forte anche degli eventi diciamo così più tragici che ci aspetteremmo leggendo non so uno piano piano supera la prima guerra mondiale arriva all'inizio degli anni trenta si aspetta che ci sia ecco la terribile cesura del trentotto e invece la prima volta che si parla delle leggi del trentotto lo si fa prima per dire che una casa la torretta era stata sequestrata con le leggi del trentotto quindi c'è da questo punto di vista io devo dire l'ho molto apprezzato la capacità di giocare tra virgolette sulle diciamo così sulle attese di quelle cesure che riguardano la vita delle persone quindi mentre è fortissima la parte iniziale vale a dire il rapporto tra l'ebraismo italiano e la costruzione della nazione è un tema che forse a Roma talvolta viene messo in secondo piano e riemerge in vicende successive ma se penso alle comunità ebraiche del nord Italia da Ferrara in su a Torino Trieste per non parlare di altre situazioni è una questione fortissima cioè in fondo le guerre del novecento rompono il cammino di continuità tra la tradizione ebraica e la costruzione della nazione italiana in fondo è fortissimo questo nella prima parte mentre a me sembra che il buio del novecento cioè la parte peggiore quello che arriva col fascismo viene richiamata attraverso due espedienti che sono o i ricordi le lettere le finestre sul passato vissuto dei protagonisti oppure alcune allusioni cioè alcuni riferimenti che in modo intelligente guidano il lettore dalla vita delle persone che ormai sono i figli e i nipoti di quelli che avevano iniziato il racconto di quelli dell'incipit di cui si parlava prima e li guidano attraverso le vicende del secolo del secolo scorso quindi io questo lo trovo particolarmente interessante e poi per parlare di storia perché io di questo posso parlare almeno provo a parlare di questo e non di altro c'è una io chiedo interessante poi sentiremo l'autrice su questo però c'è un'interessante distinzione diciamo così di priorità sui temi storici che il libro affronta faccio due esempi per essere diretto e concreto ci sono dei momenti nei quali l'autrice ha quasi bisogno di legare la vita dei suoi protagonisti ai lasciti di questioni storiche che vengono dal passato penso per esempio al riferimento alla campagna d'Italia alla difficile avanzata degli alleati al ruolo dei treni negli spostamenti delle persone come sappiamo è uno dei grandi temi su cui il nazismo è stato studiato dai primissimi grandi storici che su questo si sono misurati vale a dire il sistema dei trasporti e poi anche direi il rapporto che c'è tra le leggi del 38 evocate richiamate con e le vicende successive della storia della storia di queste famiglie quindi da questo punto di vista ecco che mi suona il telefono scusate da questo punto di vista il riferimento al passato diventa non tanto e non solo io credo uno sforzo di conoscenza per chi legge ma diventa una specie di contesto nel quale la vita delle persone si muovono meglio la vita delle persone si muove meglio diventa più piena più ragionevole più comprensibile infine altra questione che mi ha molto che mi ha molto colpito il dopo ecco io penso che questo sia un libro non so se l'autrice è d'accordo nel quale siano fortissime la parte del prima cioè la costruzione della nazione italiana il contributo della cultura e della tradizione ebraica e la questione del dopo cioè della vita che ricomincia dopo l'orrore nell'ironia di un matrimonio che si svolge a Roma nella ricerca diciamo così delle vite di protagonisti che si ricongiungono ricongiungono nel tentativo insomma di far sì che poi l'umanità dei singoli è più forte anche delle pagine più brutte che il secolo scorso ci lascia ecco in questo io credo che come è stato già detto non posso che che ripeterlo sia una lettura oltre che piacevole scorrevole interessante piena di riferimenti sia anche un modo per guardare al secolo scorso con una serie di interrogativi diversi che non sono soltanto diciamo la messa in sequenza delle cesure storiche che hanno riguardato la presenza complicata e difficile dell'ebraismo nella storia d'Italia e nella storia d'Europa ma sono soprattutto le modalità con le quali si segue la vita di due famiglie che appunto sono famiglie come ce ne sono state tante altre che hanno le debolezze le difficoltà i problemi le relazioni complicate che attraversano appunto i fratelli i cugini penso in ogni famiglia ecco grazie ti richiamo grazie Umberto e quindi abbiamo sentito l'analisi letteraria anche l'analisi storica che si racconta di questo libro io non sento più niente però Sicilia è scomparsa Sicilia credo che abbia dato la parola Sicilia allora il disclaimer di Enrico Franceschini su di me sono la nipote di Gaia e voglio ringraziare tantissimo la comunità ebraica romana il centro di cultura ebraico perché sono stata accolta e ascoltata e questo è il risultato bellissimo con una parola che Ruth mi ha insegnato che è cavod cioè considerazione ed è la considerazione che Gaia merita che questo libro merita perché è un libro che a me ha emozionato tantissimo perché diciamo ha un impatto visivo fortissimo cito la la scena di apertura già citata da Antonio Franchini dell'Isotta Fraschini dell'incontro dei due cugini con Cuccini e quindi qua ci ritrovo la zia Gaia c'è il suo amore per la musica che poi si ritrova lungo tutto il libro ma la forza visiva di questo personale di questo libro secondo me è anche data dal fatto che Gaia rinuncia a un io narrante a un certo punto e dà la parola a tutti i protagonisti che raccontano i singoli capitoli questo fa sì che ogni personaggio è molto presente è molto presente e dà dignità a ogni personaggio per cui io francamente per formazione perché mi occupo da sempre di cinema ma per deformazione professionale quando leggo un libro cerco sempre di visualizzarlo qua non ne ho avuto un eccessivo bisogno perché perché il libro ti dà proprio un'immagine fortissima di tutto quello che succede quindi io mi auguro con tutto il cuore che diventi un'opera audiovisiva per riferirmi a quello che diceva Rutte prima cioè che queste storie sono importanti e sono importanti è importante tramandarle è importante che la storia rimanga sempre presente perché tutto quello che è stato vissuto da queste due famiglie che si sentivano profondamente italiane e poi sono diventate semplicemente solo ebree e drammaticamente solo ebree rimanga a noi per sempre grazie grazie mille Cecilia io ho visto una scritta che diceva la voce salta non so a chi si riferiva si sente la mia voce si sente adesso si era un certo momento era sparita era sparita va bene allora io ringrazio questi primi interventi cogliendo la palla al balzo di quello che diceva Cecilia spero che diventi un film devo dire che a me ha fatto venire in mente un film che è anche quello a suo modo la storia di due famiglie il cui regista è stato un assiduo frequentatore del salotto londinese di Gaia cioè novecento di Bertolucci che comincia con una voce che dice è morto Verdi e qui cominciamo con una scena che dice Puccini ha capottato la macchina ma proprio partendo da questa idea io vorrei chiedere a Gaia la prima domanda la genesi di questo libro da come nasce dentro di te come come si è sviluppata l'idea sia della storia sia del modo di raccontarla molto particolare i libri sono una cosa strana e vengono io comincio in effetti comincio a credere nelle muse vedo da lontano Apollo che mi indica una musa in particolare quella viene da me o non viene da me e questo libro mi è proprio venuto devo dire una delle vere spinte per raccontare questa storia e devo dire e devo confessare anche rabbia la rabbia perché le leggi razziali sono state completamente ignorate e le leggi razziali hanno veramente ferito l'Italia se non altro se non altro la mia famiglia enormemente e non se ne sa nulla sono state in verità non so se avete notato voi che così meravigliosamente avete descritto questo mio libro e vi ringrazio che io non parlo tanto di nazisti e di fascisti io parlo di italiani e di tedeschi perché purtroppo questo voglio dire tutto un popolo vari popoli sono stati complici o anche agitatori oppure anche si sono messi da una parte ma queste leggi razziali a poco a poco e neanche così a poco a poco hanno ferito proprio delle famiglie qualsiasi della buona gente della gente che viveva tranquillamente litigava aveva i suoi bambini e questo per me era molto importante descrivere gli ebrei come della gente come tutti gli altri e questa cosa alcune persone mi hanno detto ma tu esageri nell'aver detto che per esempio che gli ebrei erano considerati erano visti come delle strane creature ma lo erano adesso le cose se Dio vuole sono cambiate ma c'era veramente della gente che pensava che gli ebrei avessero tre gambe un corno in testa la coda e anche comincio con quella anche con quel divertente anche secondo me inizio anche per questa cosa che un uomo come Puccini che io tra l'altro adoro come avrete capito dal mio testo a un certo punto dice ma questo Dio sarà un ebreo quindi un traditore qualcosa che non funziona che non c'è tutto l'episodio che della a Verona quando c'è uno dei Prospero in effetti che va a vedere se ritornano la sua madre e la sua zia e che c'è da una parte l'arrivo di questi treni con questa povera gente delle larve umane e dall'altra c'è della gente che è venuta a vedere come sono fatti gli ebrei ma è vero non me lo sono inventata me lo raccontava mio padre e mio padre era lì anche lui con fotografia cercava di vedere se qualcuno li potesse ricordare se potesse figurare e con molta difficoltà riuscì poi a capire a sapere come era morta sua madre e sua nonna e devo dire che anche questa cosa io ho cercato di indagare oddio perché Aita l'aveva fatto prima l'aveva molto meglio di me naturalmente e di perché questa vergogna la vergogna di essere vittime la vergogna di aver subito anche perché proprio la dignità era stata tolta anche col fatto di dire tu non sei più italiano una nazione l'italianità diciamo la bellezza dell'Italia è sempre stata una cosa io posso parlare anche per tutto per tutto un mondo molto cara agli ebrei perché è un paese straordinario intanto il paese è bellissimo ma parte quello ha tante cose anche che piacciono tanto alle varie comunità e difatti come voi dicevate e come dice anche il libro gli ebrei italiani si dietrano moltissimo da fare per l'unificazione ed è una delle molte altre ragioni per la quale la chiesa è sempre stata ostile agli ebrei non ostile come prima ma certamente è andata io cerchio che mi ero fatta delle notte per rispondere un po' ai vostri interrogativi osservazioni adesso le ho scritte così male che non riesco a leggere tanto per cambiare che è un miracolo delle volte si riescono ma questa cosa per esempio dei treni si è vero no vai avanti vai avanti se vuoi no no diciamo sì anche in questo il progetto di questo libro è venuto un po' alla volta devo dire anche anche come metterlo assieme come però mi ha molto preso mi ha molto preso mi ha molto avevo tutto un enorme cartellone con scritto tutte le famiglie come si sposano intanto mi sbagliavo le date e anche accoppiarle con quello che succedeva del resto nella storia poi avevo fatto dei grossi errori con la spagnola l'avevo messa un po' troppo presto invece che ma anche per per far vedere anche che il mondo andava avanti e che il mondo e il mondo va avanti anche nel dopo e il dopo certo secondo me è triste perché si chiude con delle note amare anche questo è questo ragazzo ormai uomo che racconta la nevicata l'oggetto che si rompe lì di questi oggetti che si rompono ci sono un po' di citazioni dostoevstiane dall'idiota dove mi schilva sempre cadere tutto e si rompe sempre tutto e molti di questi personaggi sono ispirati da persone esistenti che io conoscevo ho conosciuto dalla mia famiglia e molti sono inventati completamente ma sono felice di aver potuto spero passare qualche cosa al futuro cioè che è possibile che in un paese civile con della gente civile come è l'italiano medio e come lo è stato con alle spalle una grandiosa storia di intelligenza di civiltà di scoperta potesse essere vittima ma anche autore di leggi così orrendi di definire della gente che era come tale quale a loro solo che credeva magari altre piccole cose ma più o meno nelle stesse cose e devo dire che non è che uno dice quello è un ebreo a quello io devo dire lo sento lo so lo so subito se incontro uno che si chiama Mario Rossi so benissimo se in verità è ebreo no quella è una cosa molto strana di pelle proprio ma ma a parte questo sì sono sono spero di essere riuscita a portare avanti un discorso e dare una possibilità di farlo continuare grazie Gaia una cosa molto importante è questo l'orrore di quello di cui si è macchiata l'Italia l'orrore di cui si è macchiato un popolo intero ed è importante ricordarlo capisco la tua rabbia fa impressione nel libro rivederlo è quasi difficile da credere ecco uno si rimane quasi incredibile noi abbiamo fatto queste cose sì le abbiamo fatte ma ha ragione Gaia rabbia ci vuole e ci vuole che resti questa testimonianza di un romanzo come il suo perché nella coscienza dell'italiano medio questo orrore non c'è tanto diciamo la verità ecco c'è molto poco e quindi è giusto che qualcuno glielo ricordi no? anzi sono cose del tutto ignorate anzi non sono esistite ci sono stati quei pochi fascisti lì come quei pochi nazisti quattro gatti la Wehrmacht tutti bravi tutti buoni addirittura Hitler pochi altri no c'era il popolo tedesco e no c'era il popolo italiano queste cose il popolo italiano ha avuto delle cose meravigliose di partigiani ma questa cosa cosa è successo a Roma al ghetto di Roma nel silenzio della chiesa del silenzio del mondo tutto da un giorno all'altro una cosa pochissimo discussa tra l'altro diciamo una cosa allucinante tutto tutto un mondo sparito in una giornata poi con con dei dettagli spaventosi prima succhi perché poi i tedeschi hanno sempre rubato tutto prima rubano tutto l'oro poi rubano tutto questo e i treni tra l'altro portano rubano 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 io mi ricordo che si vedevano questi treni sì anche l'altra cosa che volevo sottolineare che io sono abbastanza vecchia da essere una delle ultime persone ad averle vissute queste cose sulla mia pelle io le ho viste io vedevo i treni a Falconara che passavano con la roba rubata da tutti e poi anche capivo capivo che c'era un pericolo anche se ero piccola sentivo sempre l'oppressione della paura una paura continua non sapevo bene perché ma eravamo sempre tutti terrorizzati un vero sentimento spaventoso ma a questo devo dire questo ha accumulato tante persone nella guerra ebrea non ebrea eccetera eccetera però vorrei anche dire come come è importante non dimenticare adesso ci lamentiamo tutti del covid eccetera eccetera ma guardiamo che finalmente stiamo almeno da queste parti in un posto dove possiamo criticare parlare raccontarci io vi posso dire queste cose e voi potete dirmi queste altre che la libertà di parola e di scrivere è molto rara e preziosa giustissimo bellissimo Gaia Antonio Franchini editore di Gaia hai una domanda un'osservazione da fare? le cose le cose che Gaia dice sono assolutamente sacrosante sono state tra l'altro accennate anche mi pare dal presidente del consiglio il 25 di aprile ho detto non tutti gli italiani sono stati brava gente questa questa credenza che noi abbiamo alimentato a lungo e che è stata già messa in crisi più volte per esempio noi tutti che abbiamo una certa età siamo cresciuti nella 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 convinzione che poi tutto sommato anche il nostro colonialismo fosse stato meno 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 feroce di quello inglese francese abbiamo scoperto che non era affatto così io ecco una cosa che ho trovato nel romanzo di Gaia Servadio reso con con molta forza narrativa con molta forza letteraria è proprio il senso di accerchiamento spie da tutte le parti spie messe in ogni luogo per cui non puoi parlare al bar senza che ti ascoltino delle persone che sono state messe là per risolvere anche un problema occupazionale cioè sono spie pagate per 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 lavorare spie tirate su così il questo questo senso di accerchiamento costante questo diventare poco alla volta questo diventare poco alla volta del dei nemici di Stato persone che lo Stato italiano lo avevano fatto ecco per esempio una domanda una curiosità mia che mi viene ecco io pensavo per esempio ecco che gli ebrei marchigiani fossero pensavo che le marche fosse soprattutto le marche in quelli in quell'Italia lì un territorio più addormentato mentre immaginavo la mia idea era che l'ebraismo torinese fosse invece un ebraismo più più impegnato più e invece ho scoperto il contrario nel senso che questi marchigiani erano in realtà molto più intellettuali dei torinesi allora la domanda che io voglio fare a Gaia Servadio è questa è una caratteristica che riguarda due famiglie perché perché quei foa erano più sabaudi e quei levi invece erano più artisti erano più intellettuali in quel senso o o invece bisognerebbe rivedere il luogo comune che si ha della società torinese e della società intellettuale torinese e della società intellettuale marchigiana io credo che che le famiglie ebraiche sono come le famiglie diciamo non so milanesi o le famiglie dire ce n'è una che o le famiglie siciliane cioè una è così l'altra ecco là questa qua mi capita di raccontare questa famiglia particolarmente colta e certamente lì anche lì prendo molto da casa mia perché mio nonno che tra l'altro si chiamava di primo nome Cavour per dire com'era forte ed era molto amico di Turati quindi c'era proprio una base socialista molto colta mio padre aveva una biblioteca straordinaria nonostante tutto però magari l'altro ebreo non è che ci sia una regola se Dio vuole gli ebrei sono come tutti gli altri insomma la gente cambia la famiglia cambia l'ambiente cambia sono diciamo esseri umani nel bene e nel male ed è questo anche quello che spingo molto a me devo dire dato che i Savoia mi sono veramente antipatici da anche inizi lo di torinesi poveracci vedi che mi fanno certamente molto più convenzionale il mondo torinese anche direi il mondo ebraico torinese anche molto più convenzionale che conosco ma c'è anche una cosa bellissima non solo dell'ebreismo italiano ma dell'Italia intera come cambia tutto tu vai a Ferrara e trovi un'architettura della gente che penso in un modo vai 30 km di distanza a Cremona tutti diversi eccetera eccetera la varietà di questo paese di quel paese perché adesso e anche la varietà delle comunità ebraiche qua che sono tra l'altro piccole perché il mondo ebraico italiano è molto minuto e anche per questo tra l'altro per carità che ci si sia accaniti tanto verso questi quattro gatti che tra l'altro non erano neanche ritti ritti non è che ci fossero dei Rothschild non che sia giusto per carità far male i Rothschild che hanno fatto tanto bene tra l'altro a tanti paesi questo questo incluso questo cioè l'Ighilterra incluso ma insomma l'identità ebraica è una cosa strana di fatti per quello anche ne parlo nel libro anche varia gente che si che viene che viene certamente umiliata e depavorizzata con queste con queste vicende con la guerra dopo il dopoguerra ruba molto all'unità spirituale ebraica secondo me e anche la divide così tanto io devo dire proprio con gli ebrei americani veramente non ho una cosa in comune non riesco cioè non ho quel nesso e quella fratellanza che sento invece con l'ebreo europeo ma questo è anche non solo con l'ebreo ma anche con la gente io mi sento molto più a casa con un russo che con un americano perché il russo è europeo e l'americano non lo è io che sono stato ho vissuto in america ho provato la tua stessa cosa mi sentivo più più a casa ai russi nonostante il comunismo e tutto il resto il tempo corre avanza Umberto Gentiloni nostro storico è un'osservazione una domanda da fare Umberto è che io lo sento l'ente non ti sentiamo devi mettere l'audio Umberto devi mettere l'audio è muto e come fa come fa niente ecco e allora ci siamo niente si era bloccato scusatemi si era bloccato l'audio non so per quale motivo allora no anch'io avrei tante curiosità insomma ascoltavo e annotavo allora la cosa dei Savoia me l'ero scritta anch'io si vede benissimo questa tua diciamo così mal sopportazione dei Savoia per dirla e stride rispetto alla partecipazione che gli ebrei hanno nella prima fase no in quella prima fase del libro in quella prima parte prima parte e mezzo no di costruzione della nazione italiana ora la domanda è più che insomma una riflessione che mi piacerebbe condividere riguarda anche il che cosa si sapeva nel dopo ci sono delle pagine molto devo dire molto efficaci in cui tu parli dell'ignoranza nessuno ci aveva detto cosa stava accadendo che ne sapevamo di Eichmann neanche Radio Londra ci aveva preparato che ne sapevamo di Hitler di Speer eccetera di Goering in fondo a me sembra che ecco qui fai quel discorso che cercavo di dire all'inizio cioè prendi alcuni grandi temi alcuni grandi personaggi della storia e li metti dentro la vita di questi che ormai sono i nipoti rispetto al punto iniziale del tuo racconto ecco che cosa effettivamente ti sei posta come problema per un lettore che magari si avvicina a queste storie come dicevamo prima sapendone poco o avendo semplicemente dei flash sconnessi rispetto ad una trama più ampia ecco questo tipo di operazione cioè il recupero di alcuni segmenti importanti su cui la ricerca storica la consapevolezza la memoria insomma tutto quello che abbiamo alle spalle ha sedimentato io credo un livello di conoscenza sicuramente migliore rispetto a qualche decennio fa ma quanto questo per te era era ed è ecco un elemento importante da sottolineare nel racconto di queste famiglie beh tu sai quanto è importante tutta questa vicenda il sentimento di colpa la grande quindi quello chi è rimasto adesso parlo di Auschwitz dei campi di sterminio chi è rimasto comunque si è sempre sentito in enorme colpa di non aver fatto di più di non aver saputo di più e chi era attorno a queste persone per esempio in questo caso adesso vado sulla mia famiglia ma sarà sempre convinto che avrebbero potuto fare qualcosa se non altro informare ma nessuno in effetti era informato dei dettagli noi in casa per esempio fummo molto fortunati perché avevamo una una nanny nonostante non potessimo avere una governante era proibito dalle leggi razziali e il cui boyfriend il cui ragazzo il cui amante diciamo era un carabiniere questo carabiniere fu una delle persone che ci salvò la vita perché arrivò di notte non in divisa in casa e ci avvertì dovete sparire subito perché ci sono dei treni questo è del 43 subito dopo settembre subito dopo ci sono dei treni che partono pieni e tornano si dice e tornano vuoti cioè lo sapeva un carabiniere però questi non si chiamavano si sapeva che esistevano i campi di concentramento ma il campo di sterminio è un concetto che viene molto più tardi tu ne sai qualcosa che ha scritto quel bellissimo libro su Auschwitz quindi una una delle cose la mancanza di formazione che i tedeschi hanno sempre coltivato non voleva che si sapesse e difatti hanno cercato di ammazzare tutti i testimoni non gli è riuscito quasi insomma ma quella è una delle l'ignoranza è stata anche voluta anche persino Salò persino se a un certo punto loro sanno di aver fatto delle cose perché anche a Salò furono fatte delle cose spaventose gli italiani la decima mass nessuno anche lì non si parla assolutamente anzi per alcuni erano dei partigiani come gli altri c'è da piangere devo dire questi assassini organizzati poi assassini contro veramente della gente in difesa pensa cosa è successo in Valtellina quanti italiani quanti ebrei sono stati ammazzati è stato il primo il primo arrivo diciamo di Eichmann per la soluzione finale in Italia lì nessuno era stato io ho una carissima amica che è la figlia e anche lei si era andata dall'Italia tra l'altro Camilla Dami la moglie del pittore loro non sapevano niente non sapevano magari arrivavano questi tedeschi ma di fatti il loro nascosto il padre venne nascosto in un armadio invece viene fatto a pezzi il giorno dopo letteralmente a pezzi quindi c'era un'enorme ignoranza sai era quasi impensabile se tu ci pensi difatti pensa quanta gente non ci ha creduto e ancora non ci crede e anche io parlo di cose diciamo più non così gravi cioè le leggi ranziali benché naturalmente nella mia famiglia come avete sentito ho avuto anche diciamo esperienze di Shoah che sono che sono tremendi perché io cerco delle volte di immaginarmi queste povere donne dentro a questi vagoni per giorni che si domandano tra l'altro cosa perché come ma perché sono state arrestate perché sono state messe dentro prima fossoli e poi sono cose impensabili e certamente era un'ignoranza direi dovuta a questo e poi tra l'altro come dicevo per molti anni c'è stata una voluta dimenticanza per anni e anni non se ne voleva sapere io ho avuto molta difficoltà a scriverne la prima volta che ne ho scritto mia madre e mia sorella non volevano assolutamente che io scrivessi di questo di quello che avevamo passato perché era una vergogna essere state vittime essere state diciamo protagoniste di un di un momento così sfaventoso meglio non parlare allora bellissime cose che hai detto Cecilia Valmarana la nostra produttrice cinematografica ha l'ultima domanda perché il tempo corre siamo quasi a un'ora una rapida risposta ma quello che ha detto Gaia e nel libro ci sono molte cose di famiglia che ritrovo ma c'è anche la necessità c'è anche la forza di questo libro che parla a tutti quindi chiedo a Gaia che cosa c'è di familiare e che cosa c'è invece di storia nel libro e che cosa quanto ci ha messo di noi e quanto invece ci ha messo di storia perché mi pare che è un libro che arrivi comunque direi direi come tutti gli scrittori e qui ne abbiamo tanti uno pesca dentro le proprie esperienze nell'osservare la propria vita e quella degli altri pesca anche nel mondo del romanzo quindi io direi che ci sia tutti e due c'è moltissimo della mia esperienza e della mia famiglia molto difficile di molte cose mi ricordo a un certo punto avevo cominciato a chiederle quando eravamo tutti più a mio padre con molta difficoltà tiravo fuori certe cose anche delle cose tremende diciamo ma c'è perché continuava ad esserci questo questo terrore del di quello che era capitato di quello che non era stato fatto del del senso di colpa ma c'è direi 50% ci siamo noi famiglia 50% c'è il mondo e naturalmente tutte le cose diciamo prima guerra mondiale ma la cosa è strana ci sono quando stavo cercando la prima guerra mondiale stavo cercando un'idea come fare cosa fare di quel mio protagonista che va sul carso io apro la BBC pomeriggio quando uno vuole vedere qualcosa di noioso addormentarsi con la televisione invece c'era un documentario sul carso e anche con dettagli di come dei soldati degli alpini italiani erano riusciti a fare questa strada dal niente scavando proprio le unghie e ho detto ma guarda un po' questo qua proprio come si dice a Roma il cacio sui maccheroni e lì invece poi l'episodio di questo povero migrato quel povero campano che viene fucilato quello devo dire per me era importante mettere anche questa questa divisione tremenda tra il sud e il nord che devo dire anche questo in questo l'Italia è stata fantastica perché adesso c'è molto poco adesso non c'è non è sparita la cosa dei terroni non c'è o mi sbaglio perché sono arrivati perché sono arrivati quelli più terroni sono diventati i terroni farei vedere il libro di Gaia Giudei Gaia Servadio Bonpiani un libro bellissimo un libro importante un libro da leggere e forse concluderei con le parole di Tolstoi tutte le famiglie infelici sono infelici in modo diverso ma alcune sono ancora più infelici grazie a tutti grazie a voi tutti grazie grazie numerosissimi spunti veramente interessanti emersi da questo incontro un grazie a Gaia e ai relatori per aver condiviso e partecipato a questo incontro e volevo ringraziare anche Giordana Moscati la nostra assessora per la partecipazione la presenza e la vicinanza costante e voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che potrete acquistare il libro scontato naturalmente alla libreria ebraica Kiriat Sefer quindi un grazie ancora a tutti e buon proseguimento grazie a voi grazie grazie a tutti ciao Gaia grazie ciao a te grazie a te